Sì, è una amicizia vera, profonda, conoscendo l'uomo polcherettino, anche voi l'avete descritto bene, un uomo di poche parole, guardava i fatti, mi ricordo, mi raccontava un po' la sua storia, è uscito dal patronato, andava in giro con una specie cartella, davanti con dentro gli attrezzi di lavoro per andare a riparare i chaparelli con chi la volete, poi avere un'azienda vicino a lui, in quella azienda lì, alla fine l'ha recuperata lui, e ha sviluppato tutta la sua azienda, e quindi stima, profonda, e poi c'è un'altra coincidenza che ci lega, indirettamente che forse non tutti sanno. La prima cosa l'ho vinta io, da allievo, partivo dal patronato San Vincenzo, arrivavo in Celana, cioè, patronato San Vincenzo e papà Giovanni in Celana, loro studiati, la cosa dei freddi, però dei freddi. Sai, io dicevo, vorrei dire che quello, mia mamma, prima di andare a fare le corse, o da in questa prima, o se no, la cosa me la dà in inglese.